buonasera a tutti alla doc romolo da plescello voi dite ma come mai tanta allegria e tanta allegria perché vi avevo detto che mi dovevano arrivare i pacchi ebbene sì i pacchi sono arrivati e mi hanno massacrato i pacchi ma li ho fatti a coup de prix quando è tutto a coup de prix il primo pacco che mi è arrivato è questo qui alla doc mi è arrivato una bella boccia di vino questi saranno tre litri di vino e buono magari poi mi è arrivato roba di salume io questo l'ho perso prima l'ho messo nel frigorifo sicuramente questa è una coppata alla doc madonna me e non vedo l'ora di assaggiarla tra poco e la mettiamo qui sul tavolo giustamente poi mi è arrivato un'altra cosa non so se è una coppa o un prosciutto non lo so una bella bottiglia merinello questo praticamente diciamo che è un amaro buono che ti fa digerire madonna me e sono uno due tre quattro poi mi hanno portato anche le melenzane sott'olio mamma mia alla doc propria oggi oggi stasera 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 è proprio la doc e mi hanno portato anche le orecchiette pugliesi mamma ma se è tutti i giorni così è buono bene il pacco il primo pacco lo togliamo esattamente dobbiamo salutare alla doc l'amico che mi ha portato il pacco regalo di tanto benessere allora un saluto speciale a mazzotta alessio e kevin è un saluto speciale al sottoscritto giustamente mi ha portato il pacco leonardo di sante alla doc grazie mille leonardo ti voglio bene poi salutiamo il carissimo mitico marco fratus che dopo che mi ha portato tre bottiglie di grappa madonna me questo è tutto un bel di dio poi mi ha portato no più mi ha portato le 12 bottiglie di vino poi mi ha portato le tre bottiglie di grappa e in più oggi il carissimo marco fratus alla doc sempre mi ha portato due cartoni mamma di birra peroni ah madonna me eh alla doc che sono tutte così le bottiglie guardate mamma è molto affitto ma devo fare una bella bella fresca ah madonna me allora uno uno mettiamo bene bene su qui si spacca tutto e due vi faccio vedere ragazzi guardate due cartoni di birra marco primo mezzo post madonna alla doc e perché quando le cose sono alla doc devono rimanere sempre alla doc poi un'altra persona salutiamo salutiamo il carissimo alessandro leori che esattamente mi ha portato una bellissima bottiglia di vino doc ecco qui una bella bottiglia di vino doc questo si chiama la rentu ovviamente è un cannonau di sardegna c'è anche un bel buco alla doc grazie alessandro lirioti grandissimo e niente ora ci degustiamo questa bontà che mi ha portato il carissimo leonardo di sante alla doc questa è una bellissima coppa già si vede alla doc mamma me ma io ci mangiate crudo e mangiato questo giudicamento non è che è crudo questo è un salto e praticamente questa è una pancetta una coppa stagionata molto fatta a crudo prezzi crudo e mangiato buro male buono e c'è un goce a ricro e mangiato alla doc alla doc alessandro alla doc questo qui giustamente vediamo che cos'è ooooh carissimo alessandro di sante questo è ancora meglio mamma mia proprio piccante alla ciò c'è ma c'è c'è magari questo sinceramente non lo so come si chiama però è buono a ricro di pranz madonna me secondo me questo è un fiocco un fiocchetto alla doc crudo e appicciato e mangiato madè buono e c'è un goce seconda madè bravo bravo alessandro no scusatemi leonardo 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 di sante buro quando tutto è buono niente non è buono le cose devono essere sempre buone alla doc bene questa bottiglia questa bottiglia che mi ha portato il carissimo alessandro lì ori lì ori questo mi ha metto da parte quando finisce tutta la birra tutto il vino del carissimo leonardo di sante che esattamente questo lo devo assaggiare ma come l'ho assaggiato prima e vi garantisco che questo vino è alla doc buon buon bello che da sei alla vostra salute ma dai mmm come allora buono 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 grandissimo leonardo di sante alla doc alla doc poi non so se il carissimo mazzotta alessio e che ovviamente penso che hanno contribuito anche loro per questo pacco regalo che mi ha fatto anche il mitico leonardo di sante alla doc e niente che vi do dire la birra ora gli do un po al mio cognato che mia sorella giustamente piace anche a lei bere un po' di birra un po' la do anche a mio padre suo al mio fratello e un cartone qualcosa di più me lo tengo io perché il quotidiano la vasta magma è il mio riporto perché noi giustamente comenta a far caldo e direttamente quando fa caldo bisogna bere la birra ma ma ah un minuto ecco qui la birra peroni bella fresca e ghiacciata alla doc una la metto da parte quando viene mia nipote che mi riporta non è che si beve una non è che noi ci ubriachiamo noi beviamo così perché mangiamo e poi beviamo beh che ti devo dire Marco Fratus mi ha fatto un regalo proprio alla doc alla doc come te come me come tutti i miei fan e come tutta Italia alla doc 5 anni 5 anni 5 anni acuto prima un saluto speciale Alessandro il manager Tony e tutti i membri dei gruppi alla doc perché i gruppi non è che sono tanti però salutiamo anche i gruppi per dire a tutti i gruppi perché ci faccio una lunga addio niente ragazzi poi che qui poi non finisce neanche più qui perché questi giorni e la settimana prossima mi arrivano ancora dei pacchi ma ma portate portate io prendo tutto ma dai poi giustamente quando finisce questa quarantena che mi dovete venire a trovare ma l'ho fatta a Cudeprits ci andiamo a mangiare il ristorante pagate voi però e niente che vi devo dire io vi auguro una buona serata a tutti salutiamo Vito un mio vicino di casa giustamente poverino lui anche lui non esce ma purtroppo onettanto mi viene a trovare onettanto no perché ovviamente qui do l'aria ma iamare e quando l'arri do iamare la faccio un calment bevendoci una bella bottiglia di peroni alla doc madonna me alla vostra salute alla doc buono voi dite ma come maestro si è appena bevuto il vino ora bevo la birra è su fascia io ho assaggiato il vino ma questa qua ora me la degusto alla doc e niente che cosa vi devo dire io vi auguro una buona serata a tutti alla doc una buona cena anche a tutti ci aggiorneremo domani per il pranzo e per la cena poi non sappiamo perché domani è un altro giorno domani un altro giorno arriverà perché se domani arrivano altri pacchi come dite ma dove li fai a mettere i pacchi i pacchi li ha giusto per bene perché qui mangiare a me non mi manca mai però ma ho fatto astralicudeprits più mangiare c'è e più c'è volontà di fare un video ma anche se non c'è volontà di fare un video con mangiare il maestro vi regalerà sempre un sorriso niente io ora mi devo sistemare un po' di birra porto un po' di birra su un po' a mio cognato come avevo detto io vi ringrazio tutti quanti sempre ai ragazzi fratelli Mazzotta Alessio e Kevin poi il grandissimo Leonardo Di Sante grazie di tutto cuore lo sai quando la via te lo dà porta sempre a giocare ogni tanto si fa anche per scherzare salutiamo anche il mitico Marco detto Kenshiro alla doc fratuis perché lui è un grande lui c'ha un bel fisico alla doc che secondo me come se la lui bello in perfezione non lo ha nessuno bravissimo Marco e salutiamo sempre il mitico Alessandro Liori che giustamente mi ha regalato mi ha portato una bottiglia di vino alla doc poi è il pensiero che conta se non c'è il pensiero è quello ma a me non mi interessa del pensiero ma a me mi interessa tanto essere amici alla doc amici e fratelli per la pelle io vi ringrazio vi auguro una buona serata a tutti da Brescello alla doc un bacio muah muah un bacio un bacio un bacio un bacio